Se in questi giorni avete visto un uomo barbutuo e panciuto con occhiali da sole e berretto a girarsi per il Colosseo o il Circo Massimo e fare video con il telefonino in cui ripeteva Sappiate che avete avuto il piacere di pizzicare il Russell Crowe, ma non fatevene un dramma se non l'avete proprio riconosciuto. L'attore è arrivato nella capitale per celebrare al meglio i 18 anni dalla realizzazione della pellicola che gli ha regalato fama e Oscar, il gladiatore, e che lo ha fatto innamorare di Roma, tanto da gridare davanti a un folto gruppo di fotografi. Peccato che non rendere omaggio alla città e al team, abbia dimenticato che la t-shirt era piuttosto corta e gli occhi dei presenti sono caduti sui suoi fanta addominali. Tanta l'ironia in rete, qualcuno ha scritto questo se l'è magnato, massimo decimo meridio. Oppure, omo de panza, omo de sostanza, ha riflettuto qualcun altro, sarai sempre il mio gladiatore nonostante il tempo e la ciccia che avanzano. Per chi fosse interessato, Russell Crowe presenzierà alla proiezione del film di Ridley Scott, oggi 6 giugno, presso l'Anfiteatro Flavio, poi l'8 e il 9 al Circo Massimo.